Passare entro il 2023 dall'attuale tarifazione del servizio alla cosiddetta tarifa puntuale. Ciascun cittadino pagherà in base al peso dei rifiuti effettivamente conferiti con un sistema di rilevamento elettronico che permetterà anche di verificare attraverso una piattaforma le quantità complessive dei rifiuti riciclabili e di secco prodotti in città monitorando quindi l'evoluzione dei costi e dei guadagni attesi fino all'entrata al regime del servizio. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Quarto Sant'Elena che ha presentato il nuovo servizio di igiene urbana. Questi mesi di start-up sono stati e saranno utili per mettere a punto le diverse novità previste dal nuovo contratto per l'igiene urbana di Quarto. C'è infatti l'esigenza di sperimentare nella quotidianità le innovazioni anche per valutare eventuali correzioni nell'ottica di avere un servizio puntuale ed adeguato alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini. Ha detto Toresanna, vicisindaco e assessore dell'ambiente del comune di Quarto. Il tempo che ci divide dall'avvio del nuovo metodo ci permetterà di prepararci a dovere alla nuova tarifazione anche per definire un'anagrafe del contribuente chiara, precisa, all'altezza della situazione. In considerazione del fatto che il servizio è interamente a carico del contribuente, non possiamo permetterci il lusso di avere evasione perché vorrebbe dire dover scaricare quei costi sul cittadino virtuoso. Ogni cittadino deve essere messo nelle condizioni di pagare quanto deve, contrastando e chiamando le proprie responsabilità coloro che cercano di evadere da questo obbligo. Dal prossimo lunedì 27 settembre inizierà la distribuzione dei nuovi mastelli con sistema di lettura elettronico associato a ciascuna utenza Atari unitamente al materiale informativo sulle zone e i giorni di raccolta.